Fermarsi significa anche poter dire delle cose, poter dire delle verità, essere innanzitutto contenti, ma lo dico senza retorica e senza compiacimento, contenti della iscrizione che la squadra ha ottenuto grazie a chi ci ha messo i soldi, secondo una logica che il Comune ha sempre auspicato, una netta separazione tra le attività di impresa privata e il danaro pubblico, che è il danaro dei cittadini, che è il danaro di tutti, che è il danaro che il Comune deve tutelare, così come tutela il danaro degli imprenditori, degli esercizi commerciali, degli abitanti, per la questione dei rifiuti, per il pagamento delle tasse, quindi una soddisfazione legata ovviamente da Nocerino, da primo cittadino di questa comunità, al risultato e a chi ha contribuito a questo risultato. E poi un po' di parole di chiarezza che credo siano dovute e che credo almeno questo non mi siano mai mancate, persino in un'intervista che è comparsa proprio il lunedì mattina da me rilasciata per telefono perché ero fuori città e non ero solo fuori città, ero fuori regione, perciò non ero lì, ero fuori Campania e che erano state dichiarazioni rese al giornale La Città la mattina del lunedì. Che cosa abbiamo detto la mattina del lunedì? Abbiamo detto che tutto quello che stava andando in scena, almeno fino a quel momento, appariva una vera e propria tragica media con richieste, pretese di danaro di soldi pubblici, mancavano all'ultimo minuto, io sono stato rintracciato telefonicamente a luna di notte, tra la domenica e il lunedì da parte di un amico, ma sai, dicono in società che mancano per la fideiussione giusto i soldi che il comune dovrebbe dare alla società. Ho detto guarda caso, guarda caso. Ebbene, questa parentesi si è chiusa, con i soldi di chi ha voluto metterceli, rispettiamo chi lo ha fatto, pretendiamo rispetto per il comune di Nocera inferiore, per la sua funzione, per il presidio di legalità che questa amministrazione vuole rappresentare, nel rispetto di tutti. E parole di verità? Tra le parole di verità c'è innanzitutto un documento, guarda io non sono abituato a cacciare le carte, perché so che la mia parola, mi permetto di dire anche che qui senza presunzione vale qualcosa. Nel bene e nel male, con chiarezza, io non ero fuori Nocera a caso quel lunedì, io avevo comunicato con documento ufficiale alla prefettura del venerdì precedente, che sarei stato fuori città e per di più fuori regione, come ho detto prima, fino al mercoledì successivo, non potevo immaginare dal venerdì al lunedì di quella mattina che succedesse tutto ciò che è successo. E ho seguito telefonicamente la vicenda, l'ho seguita, ribadendo la posizione del comune di Nocera, della nostra amministrazione, che ha rispetto per tutti, per coloro che pagano le tasse e per coloro che fanno impresa, che un conto sono le iniziative dei privati a sostegno di una società calcistica e un altro conto sono i contributi che la parte pubblica può o non può dare perché la legge non glielo consente, non Maglio Torquato. Quindi innanzitutto sull'assenza è stato creato un polverone veramente indegno perché non era la verità dei fatti come documentalmente probabile. Secondo, che cosa ho detto in una telefonata che ho ricevuto in ripetute telefonate, fino all'ultimo minuto, ho ricevuto da parte di varie persone, per rispetto ovviamente ometto di farne i nomi, persone che erano lì al comune. Primo, l'amministrazione è presente perché c'era il vice sindaco delegato quattro giorni prima, l'amministrazione è presente perché in quel comunicato c'è una persona cui va il mio rispetto per la sua vera sincerità e passione sportiva che è il consigliere Alfano, che è il delegato allo sport. Abbiamo detto, e questo non è stato detto nella cornice dei ringraziamenti principali, ci voglio mettere i soldi, e lo ripeto, di tasca mia, non quelli del comune di Nocera. E come farlo simbolicamente, in maniera che credo abbia un senso anche sociale. Malio Torquato, come persona, e chi dell'amministrazione vorrà farlo, come persona, vogliono dare la disponibilità ai ragazzi che hanno difficoltà economiche, che hanno disagio sociale, che hanno passione sportiva, a poter seguire la squadra di calcio, offrendo a chi voglia farlo, con criteri di oggettività, gli abbonamenti della curva della Nocerina Calcio. Ma lo faccio io, non lo si fa con i soldi del comune di Nocera, che sono i soldi dei cittadini di Nocera.